Ciao amici bentornati su Rifugio Perfetto, in questo video vi mostrerò come lavare e togliere le macchie di calcare dai bicchieri, ma stiamo parlando di macchie di calcare appena formate perché quando si tratta di bicchieri rovinati dall'azione corrosiva della lavastoviglie ormai sono irrecuperabili. Indossiamo dei guanti perché andremo ad utilizzare l'acqua calda, riempiamo la vaschetta con acqua calda e due o tre gocce di detersivo per i piatti. Riempiamo l'altra vaschetta con acqua sempre calda, e riempiamo ora una bacinella in plastica con un bicchiere di aceto e otto bicchieri di acqua. Immergiamo i bicchieri e li laviamo con una spugna. Facendo attenzione soprattutto al bordo superiore dove possono restare delle macchie di rossetto. Immergiamo ora il bicchiere nella bacinella con l'aceto, lo facciamo roteare prima la parte superiore e poi se è un calice la parte inferiore. infine lo risciacquiamo nella vaschetta con l'acqua. e lo facciamo asciugare a testa in giù su un panno e sarà pulito in modo impeccabile. attenzione e bello Grazie a tutti.